La montagna pistoiese si racconta e affida la propria memoria alla Memoteca, la nuova banca dati di storie, racconti e aneddoti che chiunque è invitato a registrare sul proprio smartphone. Il progetto, presentato in regione e promosso dall'Associazione Lettera Penninica, i video autoprodotti saranno raccolti sul sito www.lamemoteca.it grazie ai custodi della memoria, i ragazzi dell'Istituto Comprensivo di San Marcello Pistoiese, coinvolti anche in un premio per il miglior video sul tema dell'acqua. Poter in qualche modo congelare e rendere fruibile questo immenso patrimonio credo che sia una straordinaria idea che oggi può beneficiare anche di strumenti innovativi. I video caricati sulla Memoteca della Montagna Pistoiese sono etichettati in base al paese e all'argomento per creare un tesoro potenzialmente infinito di memoria degli abitanti dell'intera montagna. È un archivio di video indicizzati per paese e per argomento di memoria, ovvero di racconti di trasmissione di cultura orale, di racconti che riguardano gli argomenti più vari e più diversi e che possono appunto riannodare un filo di memoria e ricostruire un pezzo di racconto. La presentazione ufficiale della Memoteca si terrà in agosto nell'ambito del Festival 2018 di Lettera Penninica e vedrà la premiazione di tutti i partecipanti al progetto. C'è il bisogno di salvare una memoria che non è mai personale ma è collettiva perché è condivisa. Quindi un progetto del genere riesce bene o male a dare un contenitore, un domicilio a questi ricordi che altrimenti sarebbero senza fissa dimora e andrebbero inevitabilmente persi. La Memoteca ora è aperta a tutti coloro che vorranno diventare custodi della memoria.